Cora è nata con l'obiettivo di cercare sempre le soluzioni più sostenibili nel settore del tessile. Sui nostri capi i nostri tre fattori principali che guidano un po' la nostra innovazione sono il fattore risorse naturali, il fattore pelle e il fattore di persone coinvolte nel processo produttivo. Quindi con Cora Sewer Call aggiungiamo un tassello in più all'ecosostenibilità del nostro brand e anche al futuro del vestire del nostro pianeta.